La finanza di San Giovanni Valdarno sequestra 700 grammi di marijuana ad un 25enne arrestato. La droga è stata trovata all'interno della sua autovettura. Ha rubato circa 1000 euro dal bancomat dell'anziano a cui doveva fare da badante. È stata denunciata da parte dei carabinieri di Levane una badante del comune di Montevarchi. Già 51 sanzioni per assicurazione scaduta nel comune di Figline Incisa a merito delle telecamere che riconoscono le targhe e sanzionano i proprietari dei mezzi superiori del 100% rispetto ad un anno fa. Una delegazione di idea comune e di liberi uguali hanno incontrato la FIOM per fare il punto della situazione sulla Beckert di Figline Incisa. La volontà è quella di monitorare la situazione anche in futuro. Chiassai Martini presenterà un'interrogazione nella prossima seduta del consiglio provinciale a Retino per sapere se con la prossima riorganizzazione delle politiche del lavoro ci saranno spostamenti o accorpamenti per il centro impiego di Montevarchi. Inaugurato il nono fontanello nel comune di Figline Incisa è installato in piazza Don Minzoni al Matassino. Il comune prevede di installarne altri nei prossimi mesi.